Questa è la famosa questione del suo processo, delle famose schede telefoniche mi pare 27, 28, acquistate estere, anonime, se non sbaglio della Juventus direttamente. Sì, esatto. Perché lei aveva bisogno di acquistare schede anonime, poi date a varie persone, tra cui disegnatori dei casi. Semplice, semplicissimo. Io ho comprato Stankovic, in tempi non regolamentari ho fatto un preliminare con Stankovic che era a parametro zero. E sa cosa mi è successo dopo due mesi? Sì, l'ha preso l'Inter, l'ha preso l'Inter, praticamente lui è andato all'Inter perché l'Inter gli dava di più. Evidentemente avevamo capito che c'era qualcosa che non funzionava. Nella sentenza in cui è stato prescritto si dice che in realtà le schede servivano per contattare i disegnatori e per formare le griglie. Lo dicono, ma infatti hanno detto tante cose. La Cassazione che va nel merito è andata a mettere delle dichiarazioni nella sentenza di alcuni giornalisti. Allora, quando siamo di fronte a una cosa del genere è meglio tacere.